La verità negata è il titolo del docufilm che indaga la vicenda del sindaco pescatore Angelo Vassallo, tragicamente assassinato nel 2010 con nove colpi di pistola nella sua auto mentre rientrava a casa ad Acciaroli. Un viaggio attraverso la vita di un uomo, il pescatore che diventa sindaco di Pollica, di cui dopo più di dieci anni di indagini non si conosce ancora il nome dell'assassino e dei mandanti. Sono partite dalla vicina città di Agropoli le riprese con truppe e cast dando il via al primo ciac del docufilm La Verità Negata chi ha ucciso Angelo Vassallo e il sindaco pescatore con la partecipazione di Ettore Bassi per la regia di Daniela Riccardi liberamente ispirato all'omonimo libro edito dalla casa editrice Paper First scritto a quattro mani da Vincenzo Iurillo e Dario Vassallo. Si tratta di un progetto indipendente dato da un'idea di Dario e Massimo Vassallo, fratelli del sindaco pescatore realizzato attraverso un crown funding collettivo ancora in corso. Nel frattempo dieci anni di ricerche, indagini, conferenze, convegni, incontri con i giovani, pubblicazioni di libri e una fiction rai nel tentativo di svelare un omicidio ancora irrisolto e di trasferire una cultura della legalità. Il tutto per mantenere accesi i riflettori sull'inchiesta e raccontare Angelo Vassallo e le sue idee rivoluzionarie nella vita politica e nella tutela ambientale. Oggi arriva il primo ed emozionante Chuck, sottolineano dalla fondazione Vassallo. Le riprese del docufilm sono partite da Agropoli, il Cilento e Roma, le location scelte per raccontare una vicenda di un uomo salita alla ribalta della cronaca nazionale. Iniziare le riprese del docufilm La verità negata certifica la nostra follia, ha sottolineato il fratello Dario Vassallo. È pur vero che senza di esse non avremmo creato una rete di legalità, che dal sud al nord di questo paese chiede la verità, ma quella vera, sull'uccisione del sindaco pescatore. Legalità e giustizia, intrecci politici e cronache giudiziarie, tutto questo sarà raccontato nel docufilm La verità negata, come ha evidenziato Ettore Bassi. Il docufilm La verità negata, tratto dal libro di Dario Vassallo e di Vincenzo Giurillo, sull'assassinio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, avvenuto ormai più di dieci anni fa e ancora è risolto. Intrecci politici, inchieste giudiziarie, cose che ancora non si riescono a capire, insomma tutto questo verrà raccontato in questo importantissimo progetto, in questa ambiziosissima idea, nata dalla volontà della Fondazione Vassallo e dalla volontà anche di tutti noi, tante persone che hanno conosciuto Angelo, che hanno lavorato con lui, che lo hanno frequentato, insomma un progetto che noi vogliamo assolutamente portare a casa, che vogliamo assolutamente realizzare.